Ha raggirato una donna di 76 anni con il vecchio trucco dell'incidente capitato al figlio ed è riuscito a portarle via circa 2000 euro in contanti. E' successo poco prima di mezzogiorno e mezzo di ieri in via Guasti. La vittima della truffa ha ricevuto, secondo un copione ormai consolidato, la telefonata di un fantomatico avvocato che la informava del rischio che il figlio della donna potesse essere arrestato in seguita ad un incidente. Per evitare il carcere sarebbe stato necessario recuperare nel minor tempo possibile la somma di 3000 euro. La donna, sgomenta per la notizia ricevuta, ha quindi messo insieme tutti i soldi che aveva in casa, in totale circa 2000 euro, e li ha consegnati ad una persona che si è presentata alla porta spacciandosi per un collaboratore del finto avvocato. Solo in quel momento la 76enne ha intuito di essere finita nelle mani di malintenzionati, ma ormai era troppo tardi per fermare il truffatore che nel frattempo si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Così alla polizia non è restato altro che raccogliere la testimonianza della donna. Dalla questura si rinnova l'invito a contattare il 112 o il 113 in caso di richieste di denaro da parte di sconosciuti.